Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video in live qui sul mio canale Dopo aver visto la mappa Knockout Mi è uscita nuovamente Ma ovviamente adesso la stiamo giocando Successione confermata Ho sbloccato nuovi accessori Per il Razorback, il calcio, l'estrazione rapida E il calcio regolabile E in attesa di sbloccare Uno qui Mori In attesa di sbloccare Ok In attesa di sbloccare anche la canna lunga Volevo parlare un po' con voi Del nuovo Razorback Che possiamo dire bentornato Razorback Il Razorback Veramente sulla beta Era diventato qualche cosa di O meglio era sulla beta Qualche cosa di Devastante Praticamente era l'arma più forte del gioco Era qualche cosa veramente di incredibile E Ci si facevano veramente partite Oltre ogni più rosia Aspettativa Un'arma veramente Fighissima Questo Razorback Che Dopo L'uscita del gioco L'arma è diventata Una porcheria Cioè è stata A parte era stata già depotenziata Nella beta Ma Nel multiplayer Era diventata Veramente Mamma mia Quanto è forte Ma guarda quanto è diventata Forte Bentornato Razorback Bentornato Razorback Tiè ma guarda come Richilla Poi pure dalla distanza Cioè In fantastico Fantastico Bentornato tra noi Razorback Purtroppo Ci hanno Fregato Stiamo a fa Penso Sì 5-0 5-1 adesso Allora Quindi Volevo un attimo Fare questa partita In live E farvi vedere Il nuovo Razorback Adesso vediamo un po' come andrà Ovviamente ancora bisogna Bisogna sbloccare La canna lunga Quindi tante E vabbè Cioè E vi è qua A chi ha nato E mori Aia Dietro 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 E no E da qualcuno che mi difende Stavamo Stavamo Mannaggia Mi fate ammazzare così a cacchio Regà Cioè mi fate ammazzare così a cacchio Tanto che ne arriva Uno Ed è mio Ed è mio Grande Poi vi voglio far vedere Tanto nei prossimi giorni Lo vedrete Anche nuovi video Sulle altre armi potenziate Tra cui il Wevil E il E il Vesper Che anche essi Sono diventati Qualche cosa di assurdo Il Vesper È ritornato Non ai livelli Proprio del gioco iniziale Cioè Non a quella potenza Però è migliorato Veramente Tantissimo E finalmente ci si può tornare A giocare Nelle mappe strette È diventato Qualche cosa Veramente di figo Cioè Non ho capito Quando mi avevano Sti fenomeni Così veramente Sculati È una cosa Che odio Oh guarda questo Basta Ancora con Il KRM Giochiamo Ma poi su sta mappa Mori Assist 32 24 Questa Non la voglio Perdere per nulla Al mondo ragazzi Non la voglio perdere Per nulla Al mondo 33 26 Perché mi stanno A dare proprio urto 96 Mi stanno dando Veramente urto Sti fenomeni Piano Cioè poi Quando incontro La gente Che si campera Veramente Mi proprio Nervosisco Cioè Quello là Che doveva Stare per terra Perché c'era pure Che l'ammazzavo E tu te ne vai Di sotto Oh Oh E che è Cioè Assurdo Così Quello io ho fatto L'headshot Perché se ne andava Di sotto È figata Sentivo delle raffiche L'assurde Andiamo 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 Regà Andiamo Regà Attenti qua Con che sta mappa È veramente Bella Cioè io Più c'è gioco Più mi piace Cioè Veramente Figa Oh E vabbè Sì Questi stanno A rimontare Regà Questi stanno A rimontare 38 Pari Che poi Che poi Che poi c'è C'ha Sto mirino Che è fatto Veramente Bene Cioè Ci riesce A sparare Sia dalla corta Che dalla lunga distanza Hai rotto L'anima Tu sempre Con stabilità Oh Che sta uno Qua dentro Regà Oh 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 E che è Mannaggia Vediamo un po' Se quello Se ne è nato Ok Mannaggia Un corpo E sto andato Giù Mamma mia 12-9 Non sta andando Bene Come Come punteggio Ma la cosa Importante È farvi vedere Come cacchio È diventato Forte Sto Razorback Dai 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 Andiamo un po' Se arriva qualcuno Oh 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 Il WMP Oh il WMP Regà Ma mica lo riesco A utilizzare Cioè a me Mi sembra che rincula Troppo Cioè io non ci riesco Proprio a giocare Col WMP Non so voi È una cosa Che è veramente Più forte di me Non ci riesco Proprio Senti come Spacca Questo l'ha ammazzato Sì No Guarda Do sta Ma dai Ma come cacchio Giochi Poi è normale Che fate le prestazioni Che schifo Cioè a me Mi dà proprio urto Quando Quando arriva Eccolo qua Stai da qualcuno Uno Due Grandi Aspetta un altro E tripla Di Razorback Mamma mia Che arma Che è diventata O che è tornata Bentornato Tra noi Razorback Bentornato Veramente Cioè Se è mancato Un casino D'agosto Che Cercavamo E volevamo Che tornassi Ai tuoi livelli Non sei tornato Proprio ai tuoi livelli Ma Era Vabbè Non sei tornato Ai tuoi livelli Però Ci sei vicino Sinceramente Manca un po' Il danno Però già Di quanto L'hanno aumentato E basta Maggia Penna Vede quello La Che stava arrivando Ma Ammazzato Quello Col brecci Che Vedirò Cioè Sul knockout Cioè Il brecci Non ci sta Manco male Mori Livello 8 Per il Razorback Qua dovrebbe Arrivare Uno E muori Ottimo E muore Arriva un altro Da quest'altra parte Vediamo se riusciamo Bello Bello Ancora Razorback Show Bellissimo Lanciamo un bello AB Vediamo se arriva qualcuno Da qua Eccolo E sei mio A posto Bene 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 Ci piace Ci piace Ci piace Ci piace Stanno tutti qua Stanno qua Stanno qua Stanno qua Eccolo qua Eccolo Headshot A quello E mi ha ammazzato Quell'altro 21 15 Siamo ritornati i primi Però stiamo sotto Dei punteggi La cosa non mi piace Per niente Dobbiamo assolutamente Rientrare In partita Cioè riuscire a fare qualcosa Allora Mettiamoci Il bruciatore Andiamo a vedere Se becchiamo qualcuno qui Eccolo che arriva Eccoli che arrivano Bello De casa Ne dover bario Un altro Muori Muori Mi piace Mi piace La carne Alla brace Mi piace Muori Ok E tripla Bruciatura Ammazzato sempre Quello col pompa 75 79 24 16 Con 18 Confermate Annaggia Sto sotto La mia La mia media Di tante conferme Con le uccisioni Però Dobbiamo assolutamente Puntare a vincere Sto partita Mannaggia A me che ricarico Mannaggia A me che ricarico L'avrei potuto uccidere Con 20 colpi Quelli Perché avevo sprecato I colpi prima E pensavo Che non mi potessero Mai bastare Oh Bello Questo gioca Col Q E sono riuscito Ad ammazzarlo Con i Razorback Pensate 82 86 Siamo sotto Dei 4 Rega Cioè la cosa Non è affatto Buona Aia Aia La c'è sta ancora Quello col pompa L'hanno ucciso Ma perché li vedo Arrivare tutti Da sti bizzo 86 pari Intanto 86 pari 86 pari Dagli Dagli rega Dagli rega Dagli rega Che voglio la vittoria Su voglio la vittoria Voglio la vittoria Dagli 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 rega Andiamo No no Le spalle Col vesper Guardando Stava Camperaccio Maledetto Che camper All'angolo Stava Cioè Incredibile 91 90 Stiamo nuovamente In vantaggio Siamo di nuovo In vantaggio Ragazzi Siamo di nuovo In vantaggio Di nuovo In vantaggio Andiamo Andiamo In stare a 1 Da là Eccolo Vai 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 Esci Eccote Bellissimo Guarda che kill Che si fanno Ormai Con Razorback Piastrina 96 E vinciamo Ragazzi Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Se anche Secondo voi Razorback È tornato E ci vediamo Con tanti Nuovi Video Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi Sul mio Canale Mettete Un bel Mi piace Sul mio Video E ci vediamo Ovviamente Con tanti Nuovi Video Sempre Qui Sempre Sul Il mio Canale